Papà, papà, mi compri un materassino a forma di bagnino? Eh, tesoro, ma non esistono. Ma come, la mamma ne sta gonfiando uno dietro lo scoglio. Ma è tremenda! No, ma perché io sto ridendo su questa cosa? Papà, papà, mi spieghi, che cos'è un alcolizzato? Allora, figliolo, li vedi quei quattro gatti? Un alcolizzato ne vede otto. Ma papà, i gatti sono due. No, siamo proprio allo step successivo. Molto bene! Io sono il dentista. Bene, allora ci vediamo tra una settimana per l'estrazione. Ah, grazie, e che premi ci sono? Cioè, pure Spagnolo la capita in ritardo. No, carina, carina.